Quella che abbiamo visto è, prima di tutto, un'aula attiva e collaborativa. Quando però immaginiamo di trasformare delle situazioni d'aula prevalentemente di tipo frontale in situazioni in cui invece si dia una rilevanza principale all'attivazione degli studenti individualmente o in gruppo, la prima preoccupazione che ci viene riguarda la nostra possibilità poi di coprire tutti i contenuti che immaginavamo di sviluppare in quel tempo. Sappiamo che attivare l'aula richiede tempo e questo spesso ci preoccupa. Era anche la preoccupazione che aveva avuto Eric Masur, un docente di fisica dell'Università di Harvard, quando si rese conto di quanto poteva essere utile ed efficace creare dei contesti di cosiddetto peer learning, di apprendimento tra pari, nelle sue aule. Si rese infatti conto che sviluppare delle piccole attività di coppie, anche molto semplici, come per esempio fa svolgere un esercizio individualmente e poi sollecitare un confronto, una discussione tra vicini di banco prima di una revisione collettiva, permetteva di raggiungere i risultati di apprendimento in modo più efficace e soprattutto più durevole. Dicevo, anche lui però si pose il problema di come faccio poi a raggiungere i miei risultati di apprendimento attesi se uso così tanto tempo per attivare l'aula in modo collaborativo, suscitando queste dinamiche di peer learning. e la sua risposta fu l'ideazione e poi la sperimentazione molto attiva di un metodo che ha chiamato Flipped Classroom, cioè classe ribaltata, e che non è un vero e proprio modello pedagogico, in realtà è un metamodello, perché potremmo applicarlo anche ad altre tante diverse metodologie. Perché? Che cosa propone di fatto la Flipped Classroom? Propone un approccio estremamente semplice. Ci dice, per sfruttare bene il tempo dell'aula in una dimensione attiva e collaborativa, che permette effettivamente agli studenti di appropriarsi di contenuti, abilità e competenze in modo più profondo, dobbiamo far sì che la classica attività di trasferimento dei contenuti avvenga fuori dall'aula, possibilmente prima dell'aula. Quindi il metodo della Flipped Classroom prevede sostanzialmente questo. Per gli studenti viene proposta una selezione di contenuti da preparare a casa. Questi contenuti possono essere di tanti tipi diversi o molto tradizionali, per cui capitoli di libro, pezzi di dispensa, slide, oppure anche materiali un pochino più articolati, come video, pezzi di MOOC, che spesso vengono utilizzati proprio a questo scopo. Questo permette di far arrivare gli studenti in aula preparati sui contenuti chiave, che possono diventare oggetto ed elemento di stimolo per attività attive e collaborative. Eric Masur insegna Fisica ad Harvard e con questa modalità ha osservato effettivamente un rafforzamento delle abilità, delle competenze degli studenti, ma soprattutto il fatto che queste diventano più durevoli nel tempo, anche perché questa metodologia propone successivamente delle attività di consolidamento che vengono fatte successivamente all'aula, anche sulla base dei risultati di quello che avviene. Un approccio efficace all'applicazione della metodologia della Flipped Classroom potrebbe essere quello in cui il docente fa un'accurata selezione di materiali testuali, video, eccetera, che mette a disposizione degli studenti, chiedendo di prepararli a casa. Un test che può essere anche un test ricco, articolato, riflessivo, non pensate esclusivamente a un quiz a risposta multipla, che viene proposto agli studenti prima di venire a un'aula attraverso strumenti online. Il docente vede i risultati di quei test e valuta se in aula è necessario andare a riprendere degli argomenti che non sono stati ben capiti o si può fare affidamento sul fatto che la maggior parte degli studenti hanno acquisito le conoscenze necessarie. Attività in aula o di rifocalizzazione di contenuti o di apprendimento attivo e collaborativo, discussioni, casi, applicazioni, problemi, esercizi e così via. Un momento di sintesi in aula in cui si va a verificare se effettivamente risultati di apprendimento attesi rispetto a quegli argomenti sono stati centrati pienamente ed eventualmente, sulla base dei risultati di questa sintesi, il suggerimento agli studenti di andare a rivedere ulteriormente alcuni contenuti ed approfondirli con materiali di tipo differente. Un elemento importante di buon funzionamento della Flipped Classroom è quello di una corretta comunicazione agli studenti perché è un passaggio, un cambiamento di approccio importante che deve essere ben capito nel suo valore rispetto alla qualità dei risultati di apprendimento attesi e alle possibilità di superare con successo le prove finali. Un altro elemento importantissimo è che le attività in aula siano effettivamente attività di valore di cui gli studenti percepiscano l'efficacia rispetto al loro percorso. Infine, un ultimo punto d'attenzione è quello di calibrare con attenzione la quantità di materiale che viene proposto per lo studio a casa, tenendo conto del quadro organizzativo complessivo della settimana dello studente col quale abbiamo a che fare. Importantissimo, infine, monitorare lo sviluppo dell'attività come in qualsiasi esperienza di didattica innovativa per andare man mano a mettere a punto tutte le varie fasi nel modo più efficace possibile.